Sit-in questa mattina gela davanti il palazzo di vetro della raffineria da parte di una ventina di lavoratori della Sud Elettra. Le maestranze hanno inscenato una protesta contro la decisione dell'azienda di trasferire in Francia 7 dei 65 dipendenti attualmente in organico, senza però aver chiesto un parere ai sindacati e avviare così la fase contrattuale. L'incontro previsto per questa mattina in prefettura con l'impresa è saltato perché la dirigenza aziendale ieri sera con un telegramma ha fatto sapere che non sarebbe stata presente. Il problema è che inizialmente credevamo che era una banalità e un'incomprensione da parte dell'azienda nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sta diventando quasi un caso sindacale a livello nazionale. Ha un mandato in trasferta da parte dell'azienda sui lavoratori che accettavano di andare in trasferta, questo deve essere ribadito, semplicemente ha dei chiarimenti relativamente alla contrattazione sulla trasferta. L'azienda in maniera unilaterale, senza neanche concertare con il sindacato i dubbi che c'erano ovviamente sul contratto di trasferta, in via dei provvedimenti disciplinari che si parla di assenza ingiustificata, una cosa che va fuori ogni logica, fuori ogni regola di buon senso e soprattutto non è sinonimo di buone relazioni sindacali. Siamo arrivati al punto che addirittura le istituzioni, in questo caso su eccellenza il prefetto, che abbiamo mediato problematiche molto ma molto più serie, perché questi qua snobbano pure l'incontro, infatti noi adesso stiamo per partire e ci vediamo con il prefetto, sono semplicemente noi, le organizzazioni sindacali e le confederazioni di CGL e CISLUIL. I lavoratori hanno dato disponibilità dal primo momento, visto le situazioni che ci sono sul territorio, ben consapevoli che quelle condizioni dettate dall'azienda non sono condizioni contrattuali, noi avevamo chiesto solo delle delucitazioni in merito a queste condizioni, però la disponibilità dei lavoratori ad andare in trasferta è certa e quindi i lavoratori si sono visti recapitare un biglietto di aereo nella stessa giornata in cui alcuni di essi lavoravano, quindi finivano di lavorare e dovevano prendere l'aereo per andare a Dunkerque in Francia, dove c'era questa attività.